San Benetese Teramo è una gara che non ha bisogno di presentazioni, una gara che porta con sé una rivalità storica tra le due tifoserie e che porta con sé anche la necessità ovviamente di fare punti per il Teramo per compensare il pareggio arrivato qui domenica scorsa contro il Renate. I biancorossi però si troveranno di fronte una formazione sicuramente arrabbiata per la sconfitta arrivata domenica scorsa in casa del Bassano ma ovviamente Speranza e compagni con Speranza assente per squalifica dovranno provare a centrare la vittoria per fare un passo importante verso la salvezza. Sicuramente sarà importante approcciare bene la gara perché è una partita difficile quindi l'obiettivo è quello di fare punti perché ne abbiamo bisogno e quindi cercheremo di fare la partita come abbiamo detto già altre volte perfetta. Dal punto di vista della formazione c'è ancora il dubbio modulo per Palladini indeciso tra il 3-5-2 che darebbe maggiore equilibrio per l'appunto vista l'assenza del capitano biancorosso per squalifica e il consueto 3-4-3. Se dovesse essere 3-5-2 Bacio Terracino lì davanti è certo di una maglia invece accanto a lui sono in ballottaggio Gondò, Panico e San Domenico. A centrocampo non ci sono praticamente dubbi sempre se dovesse essere 3-5-2 con Amadio che partirebbe dalla panchina e con una difesa ovviamente scontata composta da Caidi, Milillo e Sales. Abbiamo provato diverse soluzioni non solo quella del 3-4-3 che secondo me è l'arma che in questo momento ci ha dato più diciamo così più concretezza e anche più equilibrio in questo momento ma abbiamo provato anche la difesa a 4 quindi quello che ci manca lo sapete tutti è inutile che ci nascondiamo e quella cattiveria un pochettino sottoporta quella determinazione che ti porta quando riesci a creare quelle 2-3 situazioni importanti a metterla dentro. Sarà una gara ovviamente speciale e particolare per Ottavio Palladini e Sandro Federico entrambi ex San Benedettese tra l'altro Palladini nato proprio a San Benedetto Palladini che parla così del presidente Franco Fedeli che tra l'altro qualche giorno fa ha ammesso di non ricordare il nome ovviamente in maniera ironica del suo ex direttore sportivo Sandro Federico. Fedeli è così io non ho avuto niente contro di lui ho detto molte altre volte che abbiamo due modi di non di vedere il calcio giocato di gestire le situazioni in modo diverso e secondo me quando iniziano queste diatribe così è giusto che le strade si dividano perché andare avanti per inercia non serve a nessuno e porta soprattutto dei scompensi alla squadra e questo secondo me l'anno scorso non era giusto per quello che si stava facendo quindi io non ho niente contro Fedeli anzi lo devo ringraziare perché mi ha dato una grossa opportunità ma sicuramente l'emozione ci sarà perché è inutile nasconderlo perché sarà così poi logicamente dopo un po' tutto svanirà.